Eccoci qui di qui ragazzi allora, benvenuti in questo nuovo video, in quella che ormai è stata rinominata da tutti la mia nuova casa anche se qualcuno si dimentica che su YouTube esiste la programmazione che mi permette di caricare più video in diversi orari anche se registrati uno di seguito all'altro ma detto questo, eccoci qua con un nuovo video di ufficialità giallorossi mi prendo il bisogno di anticipare il video di qualche ora perché dopo avrò da fare spero con tutto il cuore che non ci siano cambiamenti dell'ultimo minuto però a quanto pare l'accordo è stato praticamente trovato e Jordan Veretout sarà un nuovo centrocampista della Roma l'affare si è quindi concluso con 17 milioni più 2 di bonus che saranno versati nelle casse fiorentine se si può dire così e il giocatore che andrà appunto alla corte di Paolo Fonseca Fonseca che lo ha voluto fin dal suo arrivo sulla panchina giallorossa e lo ha quindi finalmente ottenuto sappiamo tutti quanti che fino a qualche giorno fa c'era una sorta di sfida con il Milan che lo voleva acquistare cedendo anche il cartellino di Biglia ma visto che la Fiorentina non ha mai voluto contropartite tecniche e quindi la Roma ha dovuto anche mettere De Frel da parte perché come al solito era stato proposto anche lui in questo affare la squadra giallorossa ha deciso di fare un'offerta cash di 19 milioni complessivi che si avvicina molto alla richiesta di 21 milioni che aveva fatto appunto la squadra viola il giocatore quindi oggi dovrebbe firmare il contratto, sostenere le visite mediche e aggregarsi subito al gruppo giallorosso è un acquisto che come vi ho già detto nei video aggiornamenti di questo giocatore che mi piace è un giocatore che mi piace molto è vero che l'ultima stagione non è stata delle migliori con la Fiorentina però a livello tecnico è molto molto interessante e ha quelle caratteristiche che nel centrocampo della Roma mancavano e tuttora mancano un giocatore dai piedi buoni capace anche nei calci da fermo come punizioni ed eventualmente rigori questa è la condizione fisica non proprio eccellente di Perotti un giocatore capace anche di giostrare la manovra di gioco grazie appunto ai piedi buoni che vi ho appena elencato vista l'età non particolarmente elevata è comunque un acquisto per il presente e per il futuro perché se è vero che non è un giovane che deve esplodere perché ha 26 anni ha ancora secondo me tanti anni davanti per poter mostrare le sue caratteristiche arriva quindi a Roma un altro francese credo che l'ultimo sia stato Jérémy Menez o Mexès non mi ricordo, credo Menez anche se partirono mi pare tutte e due la stessa stagione e comunque si può dire che nella maggior parte dei casi i francesi a Roma hanno fatto bene i primi nomi che mi vengono in mente oltre questi due che comunque a fasi alterne hanno fatto vedere buone cose mi viene in mente anche Candelà un giocatore che è stato in assoluto protagonista nella Roma che poi qualche anno dopo il suo arrivo vincerà il suo terzo scudetto ovviamente con questo non voglio dire che tutti i francesi sono sinonimo di sicurezza anzi diciamo che fanno parte della categoria giocatori che giocano bene quando gli va insieme ai vari serbi, croati eccetera eccetera però comunque io penso che Veretù abbia tutte le carte in regola per poter essere un titolarissimo del nostro centro campo vi ripeto un discorso che ho già fatto anche in altri video ma magari qualcuno se lo ha dimenticato quelli che si stanno lamentando di questi acquisti si dimenticano che l'obiettivo della prossima stagione per la Roma è di tornare in Champions League l'anno scorso abbiamo fatto un disastro e siamo andati fuori dalla Champions dopo 5-6 stagioni di fila in cui arrivavamo sempre tra le prime tre quest'anno l'obiettivo mi pare ovvio è quello di tornarci visto che a livello tecnico non mi considero almeno per il momento inferiore a levare Lazio, Atalanta, Milan eccetera eccetera considerando Juve, Napoli e Inter un passo superiore a noi la spesa non è stata neanche particolarmente eccessiva forte anche del fatto che appunto la stagione scorsa la Fiorentina non ha fatto questo gran campionato e quindi siamo riusciti anche ad abbassare le pretese del club ed acquistarla ad una cifra sostanzialmente tranquilla il giocatore prenderà all'incirca 2 milioni e mezzo con 500 mila euro di bonus che saranno secondo me dovuti alla possibile qualificazione in Champions League e quindi si tratta comunque del secondo acquisto per quanto riguarda il centrocampo si dice che addirittura non sarà l'ultimo perché quel giocatore del Boca Junior di cui mi sfugge il nome in questo momento è ancora un obiettivo forte però secondo me in questo momento la Roma concretizzando Veretù e Diavara ha bisogno di prendere un altro centrale da affiancare a Mancini come titolare e poi di concentrarsi prevalentemente sul reparto offensivo non solo per quanto riguarda gli arrivi ma anche le partenze perché è vero che Esciarau è partito però Dzeko è ancora lì nonostante un preaccordo con l'Inter Perotti non è una sicurezza dal punto di vista fisico e bisogna capire se si può sbolognare da qualche parte oppure se può effettivamente rientrare ancora nel progetto Roma diciamo che ti mosse ancora ce ne sono tante da fare però il progetto secondo me sta andando a gonfie vele perché è vero non sono arrivati giocatori eccezionali ma io non li pretendevo a me bastava cedere la maggior parte dei giocatori che non rientrano più nel progetto Roma tra rientranti dai prestiti e giocatori che sono stati nella rossa l'anno scorso e hanno fatto male e prendere giocatori che soprattutto sono richiesti dallo stesso mister questo è un aspetto che molti sottovalutano perché per carità qualche acquisto potrebbe comunque rivelarsi sbagliato non è che se il DS lavora insieme all'allenatore tutti gli acquisti di sicuro saranno buoni però è comunque un punto di inizio da non sottovalutare perché ve lo ripeto il problema della Roma nelle scorse due stagioni non è stato aver acquistato male a livello tecnico ma anche aver acquistato male in base alle scelte del mister quindi se Fonseca gli ha detto io voglio avere tu perché mi piace perché ha queste caratteristiche che farebbero bene nel mio centrocampo voglio di Avarà perché è roccioso, dinamico, è grintoso lo voglio sul centrocampo voglio Paolo Lopez perché eccetera eccetera sono contento che Petrachi stia seguendo queste scie stia seguendo queste indicazioni e soprattutto che abbia confermato nella sua ultima conferenza che Baldini non decide sopra lui magari qualcuno se lo metterà in testa prima o poi e che anzi se Baldini riuscirà a dare una mano a portare giocatori da altri campionati tipo 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 volevo dire tipo Tobi ho detto tipo vabbè comunque tipo Alderweid sicuramente sarebbe una buona cosa con questo non lo voglio difendere da tutte le cose che sono successe in passato però sicuramente un lavoro fatto insieme tra DS e allenatore è il primo passo ed è la strada giusta per poter fare una squadra competitiva e soprattutto adatta alle scelte del mister vedremo poi quali altri acquisti verranno fatti però secondo me l'arrivo di Veretù è molto molto importante per rinforzare un centrocampo povero di tecnica e soprattutto di qualità non parliamo del centrocampista più forte del mondo ma a 17 milioni più due di bonus me lo prendo tranquillamente e vado anche contro diciamo tutti quei tifosi della Viola che sono contenti della sua cessione da una parte li capisco perché dopo stagioni così deludenti non ci si può rimanere delusi per nessuno probabilmente l'unico per cui piangerebbero sarebbe Chiesa per forza di cose ma ci sta è la stessa cosa che stiamo vivendo qua a Roma dopo una stagione deludente come questa qualcuno si lamenterà comunque ma ho visto molti più segni di approvazione che altro per fortuna perché dopo una stagione disastrosa come quella passata non si può certo rimanere tristi se i giocatori che ne sono stati i protagonisti se ne vanno perché è tutto quello che noi abbiamo cercato di fare durante appunto la scorsa stagione detto questo ragazzi allora fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate dell'arrivo di Jordan Veretù alla corte di Fonseca ci vediamo presto per il secondo video di giornata un saluto e sempre comunque Forza Roma ciao ragazzi